Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto, continuiamo ad incontrare i protagonisti dell'ormai imminente tornata amministrativa in Abruzzo, al comune di Pescara c'è una quarta candidatura a sindaco che è stata ufficializzata proprio in questi ultimi giorni. Salutiamo e ringraziamo Gianluca Fusilli, buonasera a Fusilli, già parlamentare del Partito Democratico che sarà appunto candidato alla guida della città di Pescara da sindaco sostenuto dalla lista Stati Uniti d'Europa e così intanto possiamo confermare ci sarà questa lista che rappresenta un po' il progetto politico elettorale che unisce Matteo Renzi, Emma Bonino, i protagonisti anche dell'esperienza di più Europa e anche i socialisti proprio nello stesso giorno delle europee, ma a Pescara ci sono anche ragioni di ordine locale che vi hanno indotto a scendere in campo. Ci racconti la gestazione di questo progetto per la città? La gestazione del progetto della città nasce dalla proposta che mi è stata fatta da una comunità politica che sta lavorando sulla lista di scopo dei Stati Uniti d'Europa, che è l'unione come tu hai ben detto di P Europa, Italia Viva, Radicali Italiani, Partito Socialista e altre formazioni che sono presenti nel panorama politico e che si è posto l'obiettivo pur partendo da punti di vista diversi su molte cose di unirsi sulla concezione di Europa e cioè su un'Europa che faccia finalmente non solo la misura degli scampi da pescare o delle vongole da ributtare in mare, ma si preoccupi anche di fare politica industriale, politica ambientale, politica estera, difesa comune. Sulla base di questo arrivando e avvicinandosi le elezioni comunali di Pescara si è pensato che anche a Pescara fosse necessario mettere in campo una grande alleanza che si occupasse delle cose da fare e non solo delle ideologie e per questo è nata l'idea di cominciare a lavorarci insieme. Immagino che la domanda sia perché arriviamo ad una candidatura tra virgolette solitaria. Io sinceramente, come lei direttore Benzà, l'impegno politico diretto l'ho abbandonato da qualche anno, sono stato un elettore, sono un elettore e un sostenitore di Italia Viva. All'inizio del percorso questa comunità politica era ed è fermamente convinta che a Pescara servisse un cambio di rotta dell'amministrazione comunale, servisse un'alternativa e abbiamo partecipato, qualche volta ho partecipato anch'io da uditore, al percorso che ha portato all'individuazione della candidatura e del programma che poteva meglio rappresentare questa nuova idea di città. All'inizio, a questo tavolo, noi ci eravamo permessi anche di proporre come metodo di individuazione di chi poteva sintetizzare la proposta politica alternativa e il metodo delle primarie, non perché fossimo affezionati alla competizione elettorale, ma perché credevamo che non ci vuole a solo un cambio di sostanza rispetto all'amministrazione comunale di Pescara, ma anche un cambio di forma e che quindi bisognasse far partecipare il cittadino alla scelta, all'individuazione delle idee e ci volesse il confronto, c'era il tempo e le primarie potevano essere lo strumento più adatto. Si è scelto anche in virtù del fatto che le elezioni regionali hanno accelerato un po' i tempi di non rispondere a questa proposta, di non considerarla, la comunità politica intorno al progetto degli Stati Uniti d'Europa, che si stava in quel momento formando, era solo un'idea, poi si è completata, ha comunque continuato l'interlocuzione anche dopo l'individuazione del candidato Carlo Costantini come espressione diciamo di quello che io definirei il campo largo a metà, perché diciamo che oggi vede l'alleanza da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Durante questa interlocuzione, con molta sincerità, il candidato Costantini ha comunicato a questa comunità politica che una forza politica della sua coalizione, nello specifico il Movimento 5 Stelle, aveva messo un veto esplicito alla partecipazione di Italia Viva e anche di Azione a qualunque coalizione, se fossimo entrati noi loro non avrebbero fatto parte delle liste a suo sostegno. E noi con grande sincerità abbiamo ritenuto, avendo qualche idea da proporre alla città, anzi molte idee da proporre alla città che fosse giusto che queste idee trovassero espressione in una candidatura solitaria. Chiarissimo, ma il suo obiettivo a questo punto qual è? Rispetto al risultato che si attende, considerato il fatto che voi comunque col programma, come dice, eravate pronti, ma si è deciso anche di sostanzialmente scendere in campo con una propria lista in autonomia. Ma guardi, il nostro obiettivo, perché intanto devo chiedere scusa a questa comunità politica che in queste ore è impegnata freneticamente, come lei può immaginare, negli adempimenti burocratici che rendiranno concreta la proposta politica il giorno delle elezioni, la raccolta delle firme, tutto quello che comporta, il poter partecipare a questa competizione. Devo chiedere scusa perché mi sono preso un lungo tempo di riflessione, avevo un altro programma di vita, avevo altri progetti, non avevo mai pensato a rimettere in campo un impegno diretto. Noi come obiettivo abbiamo quello intanto di spiegare quelle che sono le nostre idee e attraverso la spiegazione delle idee abbiamo l'ambizione di convincere tanti cittadini, forse anche di vincere, ma soprattutto di convincerli con le nostre idee, perché noi crediamo che per amministrare una città è necessario incontrarsi sulle idee, confrontarsi sulle idee e non scontrarsi sulle ideologie e crediamo molto nella democrazia dei voti e non in quella dei vetti. Non si può iniziare un'esperienza amministrativa alternativa a quella che attualmente al governo della città né con i ricatti né con i pregiudizi. Resta fermo però il giudizio molto negativo rispetto all'amministrazione Masci, quali sono stati i punti su cui si è a vostro avviso interrotto anche il rapporto tra chi amministra questa città e il tessuto sociale di Pescara? Guardi, io ho grande rispetto per chiunque intanto prende il voto dei cittadini per poter governare e poi si dedica al governo, nel senso che dedica 24 ore al giorno a questa attività amministrativa e quindi non mi permette un giudizio nettamente negativo, io credo che a Pescara serva un'amministrazione diversa nella forma e anche nella sostanza. Il nostro sistema democratico consente l'elezione diretta del sindaco, lo elegge sulla base di un programma ben preciso. Dopo cinque anni bisognerebbe dar conto di quello che si è fatto e di quello che non si è fatto e io sinceramente fino ad oggi non ho capito bene quale sia stata sostanzialmente, quando sia stato fatto questo resoconto e soprattutto non c'è una delega in bianco, perché la Pescara come ogni città è un'entità in movimento che è fatta di passioni, ambizioni, progetti di vita, problematiche che cambiano ogni giorno. Non si può pensare che la propria idea è sempre quella migliore senza confrontarsi con nessuno e andare avanti come un treno per arrivare al risultato. C'è necessità che chi assume questo incarico e questa carica comprenda che il dialogo è necessario ogni giorno e che spesso sono più importanti le idee che non condividi rispetto a quelle che condividi. Il sindaco e l'amministrazione comunale devono adattarsi alla città che cambia. Io credo che una delle principali responsabilità di questa amministrazione sia stata nella forma, alcune scelti amministrativi, anche se in itirere, io vorrei parlare di quella di Valle Marconi, ma dal Palazzo della Regione non mi sembra siano stati adottati utilizzando questo metodo e credo anche che da qualche anno, da troppi anni a Pescara, non si abbia la consapevolezza di quando sia cambiata l'amministrazione pubblica. È cambiata ancora di più dopo il Covid e alla luce dei nuovi accadimenti, ma oggi l'amministrazione pubblica non consente più di cogliere le opportunità ogni volta che capitano per il tempo che uno decide di coglierle, o si colgono nel momento in cui capitano o non si colgono più. Andare avanti come treni su decisioni sbagliate, non avendo l'umiltà di confrontarsi, secondo me non è il metodo corretto di governare. Sarebbe invece importante che si spieghi alla città, da parte di chi si ripresenta, ma anche di chi sfida l'attuale amministrazione, per esempio come gestire questi due anni di transizione verso il nuovo soggetto metropolitano, la nascita reale della nuova Pescara. Lei come osserva questo processo e soprattutto come vorrebbe incidere? Guardi, lei mi aiuta tanto, perché con questa domanda mi permette di esprimere esattamente quello che penso. Noi abbiamo un'occasione irripetibile, peraltro questa occasione irripetibile non è stata frutto della visione prospettica della classe dirigente politica, ma è stata l'espressione della volontà dei cittadini, che hanno detto qualche tempo fa noi vogliamo che pescare aumenti di dimensioni, aumenti di funzioni, aumenti di ambizioni. Rispetto a questa indicazione dei cittadini io devo rilevare, e lo dico sommessamente, che fino ad oggi questa tematica mi sembra sia stata trattata come un programma elettorale da far stampare le tipografie. Io ho ascoltato solo parlare di quanto devono essere numerosi i presenti eletti rispetto agli assenti rappresentati, di quanto devono essere le sedi delle municipalità successive, di quanti gli assessori e di quanti i consiglieri municipali. E poi questa straordinaria cosa sul nome che sembra interessare molti. Il problema è che la nuova opportunità richiede invece un progetto di fusione serio. Noi abbiamo un'idea e ci sono anche le risorse, c'è una legge nazionale che stanza 10 milioni di euro l'anno per questa prima esperienza di diffusione tra municipalità che avviene in Italia. E se queste risorse non sono sufficienti ne possiamo mettere in campo altre attraverso una competizione diretta sia con il Governo nazionale che con il Governo regionale. Anche perché il Governo regionale non è che deve occuparsi solo di utilizzare i fondi a casaccio per la realizzazione di una sede sull'area di risulta, ma deve occuparsi anche di questo percorso di transizione. Ne segnalo due cose che sarebbe possibile fare e che noi crediamo che dal 10 giugno bisognerebbe mettere in campo. Intanto un grande progetto di infrastrutturazione tecnologica utilizzando anche le possibilità che ti dà questa evoluzione di questi ultimi tempi per una interoperabilità effettiva dei dati delle pubbliche amministrazioni attualmente in essere, dei quali nessuno si sta occupando. Il primo gennaio 2027 se nasce la nuova Pescara, se le amministrazioni non hanno in qualche modo reso i dati disponibili in ogni dove, ci sarà tutto un peregrinare tra un ufficio e un altro senza avere una risposta. E una volta che si è fatto questo investimento su un'infrastrutturazione tecnologica di qualità, possiamo avere l'ambizione, perché Pescara è una città che aspira alla modernità e lo deve diventare, di creare veramente un esempio europeo, di città armarte e di città facile. La sfida della nuova Pescara, direttore, è quella di coniugare l'aumento della dimensione che non garantisce il miglioramento dei servizi con la prossimità dei servizi, perché se non si farà questo non nascerà la cittadinanza nuova e sarà un'occasione persa. Io immagino a luoghi anche spazi tecnologici prossimi al cittadino dove i servizi di base siano immediatamente fruibili, però bisogna cominciarci a lavorare da oggi, bisogna avere un'idea chiara, bisogna investire le risorse e non mi sembra se qualcuno se ne stia occupato. C'è questa mentalità chiara relativa per esempio al tema della mobilità che è il grande tema su cui giunte da decenni e consigli comunali non hanno ancora sviluppato almeno una coerenza di visioni, pensiamo a Via Marconi, ma pensiamo anche al filobus sulla strada Parco che sta per entrare in esercizio e continua a dividere l'opinione pubblica. Cosa ne pensa il candidato sindaco Fusilli? Io penso esattamente che uno degli appunti che mi posso permettere di fare a questa amministrazione, ma forse anche a qualcuna delle precedenti, perché io non voglio essere esclusivamente focalizzato negli ultimi 15 anni, è questa tendenza a Pescara ad amministrare a casaccio senza un programma chiaro. Facciamo l'esempio del Palazzo della Regione, sembra la logica dei saldi, uno esce il giorno dei saldi, non sa cosa deve comprare, guarda la vetrina, individua lo sconto migliore ed effettua l'acquisto. Qui ogni tanto esce qualcuno che dice che ci sono delle risorse e in base alle risorse che ci sono si fa qualcosa in un certo luogo senza spiegare il perché. Lo stesso avviene sulla mobilità, lo stesso avviene ad esempio sull'urbanistica, ma se deve nascere una nuova città che unirà Montesilvano, Spoltora e Pescara, che hanno chiaramente problemi diversi ma assolutamente compatibili e comparabili, io credo che questa programmazione anche della mobilità vada fatta sull'area vasta, non possa essere fatta sul fazzoletto di terra che riguarda ad esempio la strada parco e il pezzo di corso Vittorio Emanuele. La programmazione non si fa cambiando il colore agli asfalti, come non si fanno le piste ciclabili cambiando il colore agli asfalti. Bisogna fare una scelta chiara, avendo però la consapevolezza che non sempre le decisioni della pubblica amministrazione si completano in 90 giorni. Non sono l'asfalto e il marciapiede, bisogna avere la pazienza, le risorse e la competenza per programmare e realizzare ed uscire, ed è questa la ragione per la quale io credo i cittadini possono preferire la nostra proposta politica, da questa strana abitudine al bipolarismo tra Guelfi e Ghibellini anche a livello di amministrazione della città, che è quello che sta rovinando la vocazione di Pescara. Ci si scontra sempre sulle ideologie e poi non si fa nulla, perché sulle idee non ci si incontra. E ognuno che arriva cancella sempre tutto quello che ha fatto il precedente. Giuriamoci adesso che ci saranno due anni soltanto di consigliatura. Questa è la mia ultima domanda, però abbiamo solo un minuto per rispondere. Cosa può fare obiettivamente un sindaco in due anni? Guardi, secondo me un sindaco può fare un'amministrazione comunale, può fare molto in due anni, soprattutto se ha le idee chiare e individua le priorità. E io credo possa fare molto per costruire ed iniziare a realizzare un progetto di fusione che il primo gennaio del 2027 consenta di girare la chiave della macchina e quantomeno di farla partire, non dico di farla correre, e può fare anche molto perché è la seconda emergenza, perché Pescara la finisca di essere una città a metà dal punto di vista delle infrastrutture. Noi siamo una città a metà perché abbiamo mezza autostrada, mezzo assi attrezzato, mezzo porto, mezzo ospedale, mezza università. Mettendoli in fila io credo che in due anni e nei successivi queste infrastrutture possano diventare intere e Pescara tornare ad essere la città che merita. Benissimo, io ringrazio Gianluca Fusilli, uno dei quattro candidati al momento 4 alla guida della città di Pescara. Lo salutiamo, ma gli diamo appuntamento ovviamente all'ormai imminente avvio anche sulla nostra emittente degli spazi di confronto elettorale, appunto nei quali avrà la possibilità anche di interloquire nei limiti e nei rigidi parametri della par condicio con gli altri. Grazie, arrivederci e buona serata.